Un documento per dire no all'istanza di permesso di ricerca idrocarburi Pignola. Lo hanno sottoscritto il presidente della provincia di Potenza e i sindaci di Potenza, Briola, Brindisi Montagna, Pignola, Tito e Anzi. Gli stessi amministratori all'unanimità hanno inoltre deciso di presentare osservazioni al Ministero dell'Ambiente per opporsi alla richiesta presentata dalla Shell. L'istanza, per avvio della procedura via, spiegano, è da ritenersi tardiva in quanto presentata dopo oltre dieci anni dalla prima richiesta avvenuta a settembre del 2005. Improcedibile, considerato che esclude arbitrariamente dai destinatari il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, il cui territorio è comunque ricompreso nella richiesta parziale poiché non riporta i dati relativi a valori dei siti ambientali né allega le necessarie autorizzazioni eventualmente richieste ad altre amministrazioni. Generica in virtù del fatto che indica un territorio vasto senza definire concretamente l'area di intervento. L'istanza sarebbe inoltre infondata perché non tiene conto delle peculiarità del territorio e della rilevante presenza di presidi storici e culturali che favoriscono lo sviluppo di aree interne e non considera le caratteristiche ambientali della zona, i siti di interesse comunitario, nazionale e regionali e i vincoli pianificatori dell'area. Aggiungono poi che non si preoccupa del fatto che l'area mantiene una forte connotazione naturalistica grazie alla diffusa presenza di superfici boscate, ambienti fluviali e lacustri. Aria in cui la biodiversità e l'ecosistema vengono tutelati grazie alla presenza diffusa di aree protette. L'istanza, evidenziano poi gli amministratori, non tiene conto della presenza di importanti falde acquifere e non valuta adeguatamente la continua modifica del territorio a seguito di disastrosi eventi tellurici. Infine, precisano che l'istanza non dà atto che i comuni sono stati interessati da un processo di valorizzazione turistico che ha richiamato diversi finanziamenti serviti a realizzare importanti attrattori turistici, il riferimento è alla grancia e agli impianti di sellata per favone. Senza contare, concludono gli amministratori, la diffusa residenzialità urbana ed extraurbana di Potenza, Pignola e Tito e l'agricoltura e la zootecnia di qualità tipiche di Abriola, Anzi e Brindisi di Montagna.